Come ogni mese vado a fare il recap sul mio portafoglio che in quest'anno quindi nell'anno 2022 ha subito alcune modifiche per quanto riguarda l'asset allocation proprio per andare ad affrontare un bear market ma soprattutto per andare a accumulare alcune criptovalute che dal mio punto di vista hanno un potenziale che potrebbero darmi un ritorno abbastanza interessante. Anche perché come al solito tutti coloro che entrano all'interno del mercato delle criptovalute hanno un'intenzione non solo di andare a esplorare un nuovo mondo e magari avvicinarsi, approcciarsi a un metodo di pagamento totalmente differente e totalmente autocontrollato ma anche per andare ad ottenere un ritorno in capitale sicuramente maggiore rispetto a quello investito. Ma prima di cominciare come al solito vi chiedo di lasciare un like, mi serve tantissimo per crescere su questa piattaforma, di commentare qui sotto, qualsiasi domanda, dubbio o curiosità di andare a scrivere il mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare. Incominciamo con il mio wallet per quanto riguarda il mese di febbraio 2022. Sappiate che a breve aprirò la possibilità di poter effettuare delle consulenze proprio con me per andare a implementare alcune strategie all'interno dei vostri wallet e per andare a migliorare, a settare o addirittura anche semplicemente ad imparare cose che non riuscite a comprendere da soli sempre per quanto riguarda il mondo delle cripto. Tutto ciò avrà la possibilità di poter essere messo realizzato nei prossimi mesi ma farò poi un video dedicato con una promozione che sicuramente potrà dare una mano a tutti coloro che hanno intenzione di affrontare questo discorso. Ma continuiamo con il mio total asset allocation che in questo momento è di stablecoin 44% e sapete bene che questa stablecoin è nient'altro che un quantitativo di denaro che mi serve per delle mie spese molto importanti e invece di tenerle all'interno della banca dove abbiamo anche un tasso di inflazione maggiore e un ritorno in interessi praticamente inesistente se non addirittura negativo preferisco averle in stablecoin e poi trasformarle in fiat quando mi servono e logicamente poi andarle a trasferirle sul mio conto. In questo momento ho invece il 50 e 50 per quanto riguarda il criptovalute e la liquidità ossia il capitale che vado ad utilizzare per andare a controbilanciare il mio wallet che risultano all'interno del mio total asset allocation a 28% e 28% entrambi. Andiamo a guardare la distribuzione delle mie criptovalute e logicamente questo comprende sia per quanto riguarda la mia liquidità che anche le criptovalute che sono in stablecoin momentaneamente ma sono come vi ho già detto il mio salvadanaio ecco e le cripto invece quelle base. In totale ho un 28% in old earn che in realtà non è nient'altro che i servizi di Binance poi un 5% in trade santa sotto forma di stablecoin e un 67% in DeFi. Andiamo a guardare invece le cripto come sono state suddivise all'interno del mio wallet. Allora potete vedere bene che abbiamo un 91% di Bitcoin, un 5% di BNB e un 4% di Ethereum dopodiché ho queste tre criptovalute che ad oggi sono col puntino 000 questo perché andrò ad implementare un quantitativo molto preciso per quanto riguarda tre progetti che mi stanno incominciando ad interessare e soprattutto è il momento giusto per andare ad investire in maniera importante anche all'interno di alcuni progetti che possano darci un ritorno abbastanza importante rispetto logicamente al classico BNB, Ethereum o Bitcoin che sicuramente alla lunga avranno un exploit abbastanza importante ma sul breve termine quindi da qui a 2-3 anni potrebbero anche rimanere giù di lì o magari fare un 2-3x che ad oggi avendo un potenziale esplosivo il mercato delle cripto è sicuramente molto minimo e come fare per dire un 5% un 10% l'anno con il mercato azionario classico quindi qualcosa di abbastanza facile e intuibile. come vedete Bitcoin è diminuito, BNB è proprio nel quantitativo preciso che volevo Ethereum sta incominciando a crescere e la strategia che ho adottato per andare a controbilanciare tutto il mio wallet non è quello di andare a vendere Bitcoin o magari BNB che sono in surplus ma andare ad investire denaro nuovamente proprio all'interno di Ethereum per andare a ribilanciare il mio quantitativo di Ethereum il quantitativo obiettivo è il 10% BNB è il 5% e per quanto riguarda Bitcoin in realtà è il 75% in effetti poi andrò a fare il 75% di Bitcoin con 5% di BNB sono 80% con il 10% di Ethereum sono 90% quindi poi quel 10% rimanente lo andrò a suddividere su questi 3 progetti potrebbero diventare 4% sto ancora studiando vi farò sapere nel tempo ad oggi preferisco non dirvi il nome proprio perché li sto ancora studiando e non sono ancora certo che possano essere un investimento valevole andiamo a guardare l'asset allocation per quanto riguarda le criptolute sull'asse FI sapete bene che io momentaneamente possiedo Bitcoin, Ethereum e BNB e li suddivido in questa maniera l'80% in BlockFi, il 20% in trading per quanto riguarda il trading utilizzo la piattaforma di Binance e questo è il quantitativo di Bitcoin mentre Ethereum ho l'1% su BlockFi non perché voglio tenere l'1% anzi vorrei tenere lo 0 ma come vi ho sempre detto l'interesse ad oggi è ancora attivo su quella polvere di Ethereum e ogni volta che la vado a tirare fuori comunque continua ad aumentare e a rimanere dopodiché ho anche il 99% quindi il restante di Ethereum su trading per quanto riguarda Binance in realtà non è proprio trading dovrebbe essere solo e soltanto Binance ma se dovesse andare a crescere in maniera esponenziale Ethereum sono disposto a venderla e ad accumulare stablecoin per poi andare a reintegrare nella percentuale che desidero detenere quindi il 10% del mio totale portafoglio in Ethereum ancora dopodiché BNB è totalmente su Binance per andare ad ottenere il ritorno sul wallet insomma per tutte le criptovalute che vengono messe sul launchpool e poi anche per riuscire ad effettuare delle transazioni interessanti con launchpad insomma dipende da ciò che voglio utilizzare al momento dell'utilità ecco scusate il giro di parole ma insomma spero di essermi spiegato dopodiché andiamo a vedere l'asset allocation per quanto riguarda le stablecoin in SeFi e in DeFi questo perché sulla DeFi io detengo soltanto stablecoin al momento ma andiamo a vedere la total asset allocation io detengo 4 stablecoin ossia USDT, BUSD, USDC e UST quindi queste criptovalute le ho divise in BUSD e USDT in due piattaforme quindi PancakeSwap connessi con Autopharm per quanto riguarda USDT ho il 15% in SeFi e l'85% in DeFi per quanto riguarda BUSD ho l'1% in SeFi e il 95% in DeFi in realtà qui è errato doveva essere il 95% in DeFi e il 5% in SeFi e questo è stato un errore di scrittura ma insomma questo è quanto mentre USDC e UST è totalmente in DeFi per quanto riguarda PancakeSwap, Autopharm come vi ho già detto io utilizzo Autopharm come yield optimizer e PancakeSwap come piattaforma DEX quindi exchange decentralizzato per quanto riguarda questo video è tutto come sempre vi voglio sempre andare ad invitare a studiare cercare di capire, carpire se conviene andare a utilizzare la mia strategia soprattutto la mia strategia è basata sul mio modo di vivere e anche sulla mia gestione patrimoniale quindi sappiate che ci sono varie informazioni da avere prima di andare a copiare un wallet come il mio o di una qualsiasi altra persona quindi mi raccomando a tenere la testa sulle spalle e non fate le cose solo perché qualcuno ve le ha fatte vedere e ha avuto dei risultati cercate di capire il perché ha avuto dei risultati e non copiatelo alla lettera senza comprendere cosa state facendo mi raccomando io come al solito vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo di mettere in piace, commentare qui sotto, iscrivervi al canale attivare la campanina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare andare a visitare il mio account instagram e tiktok davidevasco85 e se volete contattarmi su telegram davide lineetta bassa vasco vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ragazzi